Siamo qui da otto anni, un mese all'anno e più o meno abbiamo restaurato una media di 90 volumi all'anno, quindi in tutto sono 800 volumi circa. Un testo tipico può essere questo, questo è un testo totalmente in pergamena, cioè sia le copertine che il dorso e nella parte alta possiamo vedere l'accumulo di polvere e anche soprattutto nella parte del dorso. E ci sono spesso, ritroviamo spesso questi segni di penna. Nella sezione avvocatura del Comune di Napoli si è completato l'ottavo ciclo di restauro per il recupero di 90 testi giuridici, grazie ad un tirocinio formativo nella biblioteca che ha dato la possibilità di fare esperienza concreta di lavoro e di acquisire capacità e competenze, fino all'attestato finale rilasciato dal Comune. Quest'anno si sono aggiunti altri otto giovani corsisti del Laboratorio Scuola di Legatoria d'Arte, sostenuto dall'Inner Wheel Napoli, Luisa Bruni, seguiti dal maestro legatore Ciro Cardone. La prima operazione per esempio è quella lì di rasatura, vengono usati dei supporti per non far creare danno alle copertine e viene rasata la parte superiore. Nella seconda operazione è l'operazione di pulitura, appunto l'asportazione di queste macchie nere e dei segni di penna. Abbiamo i ragazzi che si occuperanno del ritocco, appunto possiamo vedere delle parti mancanti o sbiadite che loro andranno a ritoccare con dell'inchiostro di china, dopodiché andranno a lucidare per ridare via la città al colore comunque che era presente. Nonostante le precarie condizioni di conservazione dei volumi, è stato quindi recuperato un prezioso patrimonio librario pieno di testimonianze dell'attività forense, trasmettendo contemporaneamente ai giovani un'arte che in questo modo si contribuisce a mantenere in vita. Ci auguriamo che questa intesa continui negli anni per portare avanti, cioè per conservare la storia della città contenuta in questi volumi. L'avvocatura del Comune di Napoli è una delle più antiche, la seconda dopo quella di Roma, e quindi abbiamo un enorme patrimonio di volumi giuridici, purtroppo in condizioni abbastanza deteriori e nel tempo, grazie al loro apporto, all'apporto dell'associazione e dei ragazzi che collaborano con questa associazione e quindi svolgono questa attività di restauro come momento di formazione, pian piano stiamo procedendo a restaurarli, a restituirli diciamo a una nuova vita. Un rapporto che noi abbiamo determinato con il mondo del lavoro, però un mondo del lavoro che ci piace perché è un mondo del lavoro dell'artigianato, della formazione, il mondo del lavoro dei giovani che poi vedranno se questa inclinazione la vorranno sviluppare o meno.